Ben trovati a questa edizione di TgGiorno, apertura dedicata alla politica tappa lucchese per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che è venuto a sostenere il candidato a sindaco Francesco Raspini. Letta è venuto a Lucca accompagnato dal senatore Marcucci, presente in sala anche il presidente della regione Eugenio Gianni. Oltre alla questione lucchese c'era attesa per capire se il segretario avesse in programma anche la tappa versiliese con l'ipotizzato incontro chiarificatore con il sindaco di Viareggio, a proposito delle ultime vicende politiche con il PD comunale passata all'opposizione e l'ipotesi candidatura a Lucca di Del Ghingaro. Malletta ha chiarito che ripartirà stasera per Roma e che non c'è mai stata l'intenzione di recarsi a Viareggio. Ovviamente su questa visita del segretario del Partito Democratico un approfondimento nei Tg di questa sera. Torniamo a rivivere la giornata passata nelle cave del comprensorio carrarese perché il FAI di Massacarrara ha organizzato lì le giornate di primavera appunto del FAI. Al centro del bacino estrattivo delle Alpe Apuane si cela un piccolo tesoro che racconta la genesi di questo territorio. Si tratta della cava romana di Fossa Cava, il sito archeologico che ha permesso di riportare alla luce lo splendido anfiteatro scolpito dall'uomo tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C. Ed è questo sito che il gruppo FAI di Massacarrara ha scelto per le visite delle giornate del FAI di primavera grazie all'accessibilità e al restauro dello scavo avvenuto nel 2015 che ha permesso l'esposizione della parete frontale di circa 20 metri di altezza e il recupero di prodotti lapidei romani nonché materiale ceramico utile per la datazione dell'attività di escavazione. Abbiamo scelto questo sito perché è un unicum in Italia e perché è stato anche recentemente restaurato. Un unicum perché solo qui si possono trovare determinati tipi di escavazione romana. All'aperto, quindi anche per l'emergenza pandemica, era il luogo più adatto perché potevamo accogliere un numero maggiore di visitatori in totale sicurezza aiutati anche dalla Croce Rossa con la quale collaboriamo ormai da qualche tempo. Ci piaceva far vedere le Apuane, anche la parte storica dell'escavazione romana volevamo dare uno sguardo un po' diverso sul mondo delle Alpe Apuane. Il gruppo FAI di Massacarrara è di recente costituzione. Nato nel 2019 infatti, ha da subito dovuto fare conti con le restrizioni dovute alla pandemia e si sta concentrando sull'organizzazione di visite per la riscoperta del territorio. Sì, abbiamo sempre avuto il tutto esaurito e questo ci fa molto piacere perché sono occasioni, le giornate FAI sono raccolte fondi perché il FAI in tutta Italia contribuisce al mantenimento di opere che altrimenti resterebbero chiuse e non visitabili. Quindi queste giornate per il FAI sono fondamentali. Quindi siamo contenti di aver avuto sempre il tutto esaurito e nello stesso tempo di far conoscere anche un po' il nostro territorio. Passiamo alla cronaca perché la questura di Lucca ha sospeso per 7 giorni l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al locale Sevege di Alto Pascio dopo che sabato notte due persone che si trovavano all'interno dell'esercizio sono state aggredite da alcuni individui al momento ancora sconosciuti. Le vittime hanno riportato lesioni guaribili in 4 e 15 giorni. Il provvedimento di chiusura del questore si è reso necessario perché il locale è stato anche altre volte teatro di analoghi episodi. Veniamo adesso all'andamento del contagio da Covid-19 anticipato dal Presidente della Regione su Telegram. Insomma i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.778 su 11.563 tamponi effettuato il tasso di nuovi positivi rimane pressoché stabile su 15,38%. In provincia di Lucca i nuovi positivi sono 241. Nel comune di Stazzema una donna di 40 anni ieri stava facendo un'uscita in gruppo quando è caduta sul sentiero numero 5 che dal Monte Matanna porta al rifugio Forte dei Marmi procurandosi un trauma dalla parte superiore del corpo. La squadra della stazione di Querceta del Sast è subito intervenuta sul luogo dell'incidente e i sanitari del soccorso alpino hanno apportato le prime manovre di soccorso stabilizzando il trauma dell'escursionista. Quest'ultima è stata poi accompagnata fino a casa Giorgini dove l'attendeva l'ambulanza. Spostiamoci a Borgamozzano dove si è svolta la nona edizione di Truth for Africa oltre 100 i partecipanti da tutta Italia. Oltre 100 i pescatori che non hanno voluto mancare l'appuntamento con la manifestazione di pesca sportiva presso il lago di Gioviano organizzata da varie associazioni tra cui la società P-Line in collaborazione con Daniele Di Natale, gestore del lago. Il tutto per raccogliere fondi a favore dell'associazione Amata Africa. L'evento è giunto alla nona edizione e ogni anno ha dato il proprio contributo al miglioramento della qualità della vita nelle aree ruandesi raggiunte dai progetti di Amata Africa grazie all'opera umanitaria che svolge da oltre 20 anni. La nostra attività è stata l'istruzione, abbiamo migliorato l'istruzione costruendo scuole, abbiamo migliorato la vita della gente costruendo acquedotti e anche scuole dei mestieri cercando di migliorare quello che è la loro vita. Non è questo l'unico gesto di solidarietà della manifestazione, infatti al termine della gara le trote pescate vengono consegnate direttamente nelle mani dei volontari della Caritas locale. Una bellissima gara, ho visto tanti partecipanti e poi hanno fatto effettivamente un bel gesto, quello di solidarietà verso chi ha bisogno e in questi momenti ce ne sono tanti. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico e sportivo possiamo dire che è stata una gara molto divertente in quanto le trote lanciate hanno divertito i pescatori e il lago di Gioviano si è dimostrato un sito particolarmente pescoso e divertente. È andata bene, più di 100 pescatori, buon risultato di pesci perché sono tutti contenti, quindi una nona edizione sicuramente è andata bene, ci sarà un bel raccolto di soldi da donare agli amici di Amata Africa che li sanno sempre usare bene. A termine il vincitore assoluto è il risultato Lorenzo Pasquini di Fosciandola con 34 catture. Tra i premi anche quello alla trota più grande che ha superato i 4 kg. Comunque a vincere su tutti, come avviene ormai da 9 anni, è stata alla fine la solidarietà che unisce organizzatori e pescatori in questa iniziativa. Tornano gli appuntamenti di music e art dell'Aparatorio Brunier alla Casermetta di Santa Croce. Ripartono gli incontri del Laboratorio Brunier. L'Associazione Artistico-Culturale ha dato il via alla stagione con un doppio appuntamento alla Casermetta di Santa Croce sulle mura urbane. Prima l'inaugurazione della mostra Quattro modi di vivere l'arte con le artiste Mele Cristina Lima, Rossella Cascasi, Laura Corre, Francesca Ore. Poi il concerto Proyecto Piano Coven con musica spagnola della classe di composizione del maestro Alberto Cerretero del Conservatorio Superiore di Musica Manuel Castiglio di Siviglia. L'inaugurazione di una mostra di pittura al femminile e a seguire un concerto di allievi del Conservatorio di Siviglia. Abbiamo i loro mestri, i compositori e pianisti, quindi è un'occasione eccezionale per Luca ospitare una ventina di musicisti spagnoli che sono in giro per l'Europa e che hanno anche messo Luca nel loro tour. Siamo molto lieti di averli ospitati. Un vero e proprio progetto di scambio culturale con l'obiettivo da un lato di diffondere il repertorio del piano spagnolo dall'altro di vivere l'esperienza professionale di una tournée. Il percorso si concluderà con una registrazione diretta dell'ultimo concerto e la sua successiva edizione in CD. La Casermetta Santa Croce anche grazie all'associazione Laboratorio Brunner come dire torna aperta alla città con grandi iniziative. L'inizio di quella che speriamo essere una stagione di grande interesse per la città, per la cultura e anche per il turismo. Si chiude qua questa prima parte di Tg Giorno, tra poco la pagina sportiva.